Dopo un lungo e travagliato Consiglio Comunale, durante il quale è stata approvata la manovra fiscale propedeutica al bilancio di previsione con l'assenza sin dall'inizio dei consiglieri comunali Ignazzo Cirillo, Lia De Ceglia e Sergio De Pinto, mentre i consiglieri Roberto Lagrasta e Annalisa Altomare hanno lasciato il dibattito in corso bocciando l'azione amministrativa, oltre all'uscita di tutta l'opposizione, il sindaco, Paola Natalicchio, poco prima della mezzanotte, ha preannunciato la volontà di lasciare il suo mandato, prendendo atto di aver perso la maggioranza politica conquistata nel 2013. «Tecnicamente potremmo andare avanti», ha dichiarato la Natalicchio, «ma di fatto non abbiamo i numeri. Possiamo sopravvivere, ma io sono tesserata al partito della mia coscienza e nessun sindaco può mentire alla città di cui è sindaco. Molfetta non merita la nostra ipocrisia». «Nessuna parola può quantificare e descrivere quello che sto provando in questo momento», ha continuato il sindaco Natalicchio. «Ho creduto moltissimo nella chiamata che mi avete fatto nel febbraio 2013 e sono certa che un nuovo centrosinistra, una nuova classe politica, potrà riscattare le nostre imperfezioni». Paola Natalicchio, in conclusione, ha annunciato il voto del bilancio di previsioni in giunta di questa mattina, seguito dalle probabili dimissioni consegnate in prefettura.